Musica Calabria assediata dalle fiamme, circa 70 gli interventi in corso dei vigili del fuoco, supportati da unità provenienti anche da fuori regione. Pompieri all'opera soprattutto nell'Alto Ionio Cosentino e nell'area grecanica in provincia di Reggio Calabria. Il 58% dei punti campionati da Goletta Verde oltre i limiti di legge e quanto emerge dai dati del monitoraggio realizzato dall'Egambiente, i campionamenti sono stati effettuati tra il 28 giugno ed il 17 luglio e hanno interessato le acque di 24 punti lungo le coste della Calabria. Sbarcati in Calabria circa 300 migranti, erano stati i soccorsi nella giornata di domenica a largo di Siracusa, 195 sono stati condotti al porto di Crotone, gli altri a quello di Rocella Ionica. Si tratta di soggetti di nazionalità siriana, afghana, irachena ed iraniana. Il ponte sullo stretto unirà certamente due cosche. Il fondatore e presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, nella Locride critica le decisioni del governo in tema di giustizia, autonomia differenziata, politiche sociali e giovanili. La Calabria è una terra meravigliosa, ma ci vogliono le condizioni affinché i ragazzi tornino. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV, Calabria ancora nella morsa della Fuoco. Le roventi temperature degli ultimi giorni e di picchi previsti almeno fino alla giornata di martedì non aiutano il lavoro incessante dei vigili del fuoco impegnati su almeno 70 fronti lungo tutto il territorio regionale. Arrivati in Calabria aiuti anche da fuori regione. Sentiamo. Da nord a sud dalla provincia di Cosenza a quella di Reggio, la Calabria è stretta nella morsa degli incendi. Le roventi temperature degli ultimi giorni e i picchi previsti per le prossime ore non aiutano il lavoro incessante. Dei vigili del fuoco impegnati da giorni su oltre 70 roghi. Un'emergenza vera e propria che ha chiamato a raccolta squadre dei vigili del fuoco provenienti anche da altre regioni. Numerose sono infatti le segnalazioni di soccorso pervenute alle sale operative dei comandi provinciali, soprattutto di Reggio Calabria e Cosenza. Nella provincia Abruzzi ha maggiori criticità nella zona dell'Alto Ionio. Numerosi interventi però anche nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia. Nel Regino a bruciare da giorni è l'area grecanica, in particolare la zona di Pentedattilo, sopra la cittadina di Merito Portosalvo. Numerose famiglie sono state evacuate in via preventiva e la circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta in più punti. Il vasto fronte di fuoco ha richiesto un grande numero di pompieri partiti anche da Lazio, Campania, Molise e dalla vicina Sicilia. Due Canadair fanno spola ininterrottamente, lanciando, ma il vento e le temperature proibitive, circa 43 gradi, hanno reso molto difficoltoso il lavoro di estinzione delle fiamme. Situazione critica anche a Motta San Giovanni e Montebello Ionico. E a proposito di incendi pubblicato sui social dalla Presidente della Regione Roberto Chiuto, il video che inchioda un piromane intento ad appiccare incendi nel territorio di Curinga. Vediamo. La Calabria è una regione civile, però ha anche qualche imbecille, che va a appiccare il fuoco nei boschi, come questo piromane che abbiamo beccato ieri. Guardate il video. Questo appicca il fuoco, poi vede il drone e cerca di abbatterlo con le pietre. Ma da dove viene? Dalle caverne. Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere in campo. Lavorano nei boschi gli uomini di Calabria Verde, la protezione civile, i volontari della protezione civile. Gli abbiamo dato dei mezzi. E però abbiamo messo in campo, come l'anno scorso, anche i droni. Anzi, quest'anno 30 droni. Perché l'unico modo di contrastare la stupidità di chi rovina ingenti ai boschi della Calabria è la deterrenza. Sappiano che li prendiamo. Non ci sono pietre utili ad abbattere i droni. Li inseguiamo, anzi, come abbiamo fatto con questo imbecille. Abbiamo preso la targa anche del suo mezzo. Abbiamo la visura. Ora sto denunciando tutto ai carabinieri perché anche quest'anno sugli incendi tolleranza zero. E intanto è stato domato nel Regino il vasto incendio che minacciava il santuario della Madonna di Polsi. Ce lo conferma il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, che abbiamo sentito telefonicamente. È stato debellato, domato quell'incendio. La situazione ovviamente è tranquilla. Grazie alla tempestività dei soccorsi che ci sono stati. E lo dico con la massima onestà che queste volte si sono proprio superate. Basta pensare che il responsabile, il dirigente della protezione civile, il dottore Coscarella, e il dottore Oliva dei Calabria Verdi, alle ore 8 della mattina erano già sul luogo dell'incendio. Partendo da Catanzaro. Sono partiti alle 5 e mezza per il secondo. E si sono attivati per... Certo, la situazione era difficile, perché era una zona molto impervia, che l'uomo non si poteva visitare perché rischiava di ferirsi, di bruciarsi, insomma, non ho posto. Però, grazie alla tempestività, hanno fatto quello che dovevano fare. Vabbè, se non sarebbe stata un'altra tragedia, però lo sa. Continuiamo a parlare d'ambiente. Il 58% dei punti campionati da Goletta Verde risulta essere oltre i limiti di legge. E quanto emerge dai dati del monitoraggio realizzato da Legambiente? I campionamenti sono stati effettuati tra il 28 giugno ed il 17 luglio e hanno interessato le acque di 24 punti lungo le coste della Calabria. In Calabria il 58% dei punti campionati da Goletta Verde è lungo le coste e oltre i limiti di legge. E quanto emerge da in sintesi dai dati del monitoraggio realizzato da Legambiente lungo le coste Calabria. I campionamenti sono stati effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente tra il 28 giugno e il 17 luglio, che hanno monitorato le acque di 24 punti lungo le coste della Calabria. 17 in punti critici come foci di fiumi, canali, scarichi, fiumare e i restanti 7 in mare. Sono ben 14 i punti che hanno oltrepassato i limiti di legge, più del 58% del totale dei punti monitorati, di cui 13 fortemente inquinati e 1 inquinato. Secondo Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, il quadro che dipinge il monitoraggio di Goletta Verde è ancora una volta poco rassicurante. Una situazione di forte inquinamento soprattutto in alcune province, in particolare nella provincia di Vibo Valencia, che ha 5 punti monitorati fortemente inquinati su 5, segue la provincia di Reggio Calabria e poi tutte le altre province. Quindi una situazione grave nella quale noi prendiamo atto che la Regione Calabria ha posto in essere alcuni provvedimenti per efficientare i sistemi di depurazione e per effettuare dei controlli sul territorio, ma che questi interventi non sono ancora assolutamente sufficienti. Nonostante questo, dalla Regione Calabria invece arrivano comunque le rassicurazioni. Le nostre coste sono perfettamente banneabili. È chiaro che abbiamo dei contesti particolari, come dicevo, che sono attenzionati, ma ciò non significa che non possiamo parlare di un mare sporco. Siamo a conoscenza tutti che nel corso degli ultimi anni stiamo facendo degli sforzi notevoli per cercare di arginare in modo significativo ciò che arriva al mare. Passiamo alla cronaca. Sono circa 300 i migranti soccorsi nella giornata di ieri a largo di Siracusa ed approdati questa mattina in Calabria, nei porti di Roccella Ionica e Crotone. In particolare nella città pitagorica sono sbarcate 195 persone. Servizio. Sono circa 200 i migranti sbarcati stamane intorno alle 9 al porto industriale di Crotone. I migranti sono stati soccorsi da un pattugliatore multiruolo della Guardia di Finanza di Taranto. Quando si trovavano su un'imbarcazione intercettata ieri a largo di Siracusa, a bordo della quale viaggiavano circa 300 migranti, il resto dei migranti è stato dirottato con un altro mezzo. Al porto di Roccella Ionica, dove sono arrivati intorno alle 7.30 di stamane. Lo sbarco è stato coordinato dalla prefettura pitagorica sul molo ad attendere i migranti, le forze dell'ordine, i medici dell'azienda sanitaria provinciale e la Croce Rossa italiana. Le loro condizioni di salute sono buone e una volta sbarcati sono stati successivamente trasferiti presso il cara di località Sant'Anna, di isola Caporizzuto. Le persone soccorse, partite tutte dalla Turchia. Sono 6 siriani, 96 afghani, 53 iracheni e 40 iraniani. Tra loro 82 sono gli uomini e 48 le donne, mentre 65 sono minori, dei quali 3 non accompagnati. Andiamo avanti con la cronaca. È morto nell'ospedale di Reggio Calabria, Otello Profazio, tra i cantanti folk e cantastorie più noti, autore di numerosi brani di successo. Profazio, che aveva 88 anni ed era nato a Rende, in provincia di Cosenza, viveva a Pellaro, frazione di Reggio Calabria. Soffriva da tempo di patologie cardiache e due giorni fa era stato ricoverato nel grande ospedale metropolitano. Le sue condizioni, comunque già dal momento del ricovero, erano parse molto gravi. Molto conosciuto in Italia e all'estero, Profazio aveva pubblicato complessivamente 25 album, uno dei quali, quasi campadari, aveva ottenuto un notevole successo di vendite. E un terribile incidente si è verificato nella mattinata sulla strada statale 106 all'altezza di Nubrica, di località Nubrica, alla periferia sud-est di Corigliano Rossano. A seguito dello scontro avvenuto tra una tirra ed un furgone, si registrano una vittima ed un ferito grave. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, che hanno estratto le persone dalle lamiere, ed i sanitari del 118 che sono giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Le perizie dell'incidente sono affidate agli agenti della polizia stradale, mentre si è lavorato incessantemente per ripristinare la viabilità. La strada è infatti rimasta bloccata in entrambe le direzioni, dove si sono registrate lunghe code. E ancora incidente sul lavoro, nella grande cantiere della Nuovo Ospedale della Sibaritide. Un operaio, un uomo di 60 anni, sarebbe precipitato nel vuoto mentre si trovava su un'impalcatura. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi e così sono stati allertati i soccorsi. Nell'area è arrivata la prima ambulanza, poi l'elisoccorso di Cosenza, che ha stabilizzato il paziente ferito e lo ha trasportato presso l'ospedale Abba, l'annunziata. Sul posto anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno immediatamente avviato le indagini. La Procura Generale di Catanzaro ha deciso di rivolgersi in Cassazione e chiedere le assoluzioni nei confronti di 10 imputati nel processo contro la cosca di Indrangheta di Ciro, farao Marincola, nato dalla blitz della Didia di Catanzaro risalente al 2018. La sentenza è in parte da annullare. La Procura Generale di Catanzaro si è rivolta alla Cassazione per chiedere l'annullamento delle assoluzioni decise il 24 settembre 2021 dalla Corte d'Appello nei confronti di 10 imputati coinvolti nel processo scatolito dall'inchiesta Stigge. Si tratta dell'inchiesta della Didia di Catanzaro che nel 2018 disarticolò la cosca di Indrangheta, farao Marincola di Ciro, con 169 arresti eseguiti dai carabinieri. Tra i rilievi sollevati c'è quello per Cataldo Marincola, condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere, ma scaggionato dalla debito di associazione mafiosa. Per l'avvocato generale Beniamino Calabrese che ha firmato il ricorso Marincola, che insieme ai farao è ritenuto uno dei capi storici del clan cirotano, avrebbe continuato a condurre il locale di Indrangheta anche durante la sua detenzione. Le intercettazioni, scritte nell'istanza, evidenziano come i sudali liberi dalla cosca abbiano continuato a riconoscere il ruolo direttivo di Marincola, attendendo nella scarcerazione in vista della quale hanno programmato acquisti o raccolto e accantonato somme di denaro in suo favore. Invece, a parere della Corte e la censura mossa, il dato non risulta sufficientemente dimostrativo dell'effettività della posizione dei vertici del clan Marincola, che avrebbe ricoperto nel corso degli anni trascorsi in cella per alcuni periodi anche il regime di 41 bis. Allo stesso modo, la Procura Generale ricorsa contro l'assoluzione di Aldo Marincola, uno dei presunti rampoli del clan, con il provvedimento ritenuto monco. Ricorso pure contro l'assoluzione di Ludovico Tallarico del reato associativo all'imputato, che secondo l'APG è stato scagionato con una motivazione del tutto illogica e contraddittoria, viene contestato di essersi occupato per conto dei faraumarincola dell'esportazione in Germania dei semolavorati per la pizza. Inoltre, l'Avvocato Generale ha impugnato le assoluzioni sia dei produttori di farina, Luigi e Amodeo Caputo, dall'accusa di associazione andranghetistica, che di Angelo Cofone, Adolfo D'Ambrosio, Vincenzo Zampelli, Bruno Tucci e Vincenzo Santoro, scagionati dalla debito di turbativa d'asta per gli appalti Boschi Vinsila. Donna Luigi Iciotti, fondatore e presidente di Libera, all'Ocri per l'iniziativa in ricordo di Lollò Cartisano, critica le decisioni del governo in tema di giustizia, autonomia differenziata, politiche sociali e giovanili. La politica oggi è smemorata, afferma. Il Ponte Sullo Stretto unirà certamente due cosche. Parla di una politica smemorata, di segnali che diventano inquietanti in relazione a decisioni prese su quelli che sono stati pilastri, che oggi vengono messi fortemente in discussione. Non ha mai avuto peli sulla lingua, Don Luigi Iciotti, il fondatore e presidente di Libera, l'associazione che supporta e raccoglie i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata. Lo dimostra ancora una volta criticando le decisioni del governo in tema di giustizia, autonomia differenziata, politiche sociali e giovanili. E non solo. Del depotenziamento di quei pilastri che sono stati creati nell'arco degli anni per avere maggiore forza al contrasto ai giochi criminali. E quindi il reato di abuso d'atto d'ufficio che viene impoverito è eliminato. Le intercettazioni che non vengono penalizzate, anche se alcune piccole modifiche erano necessarie. Il concorso esterno con la soluzione mafiosa che viene messa in discussione c'è la volontà di eliminarlo. Il codice degli appalti che invece di stringere per controllare con questa merito di denaro che sta arrivando, maggiori controlli, invece si favorisce su tutti i subappalti. C'è una serie di segnali che diventano inquietanti. E poi il presidente di Libera parla anche dell'importanza dell'impegno attivo dei cittadini. Perché facciamo la Calabria? La Calabria è una terra così bella, meravigliosa, che dell'archeologia, nell'arte, della storia, nella natura, nell'ambiente, mare e monti che si baciano, quindi turismo, tutto questo avrebbe delle potenzialità, delle opportunità che permetterebbe a tanti dei nostri ragazzi, tanti, che hanno voglia di portare il loro contributo, i loro saperi. E a proposito di politica, ce ne andiamo a Vibo Valencia, dove dopo le dimissioni di tre assessori si apre una settimana decisiva per il sindaco Maria Limardo, che è pronta alla sfida. Decido io, ha detto, ma tutto dipenderà dai numeri in consiglio. Per il destino del comune di Vibo Valencia e l'amministrazione Maria Limardo si apre una settimana cruciale. Il primo cittadino vibonese, infatti, dovrà decidere se accettare o no le dimissioni dei tre assessori, Giovanni Russo, lavori pubblici, Antonella Tripodi, Cultura e Rosa, Chiara Valloti, politiche sociali, che hanno rimesso il mandato nelle mani del capo dell'esecutivo dopo aver espresso che era ormai imminente una rimodulazione della giunta nella quale il gruppo di città futura, espressione dell'ex consigliere regionale Vito Pitero, avrebbe subito un pesante ridimensionamento passando da quattro a due componenti. Ma Maria Limardo è stata chiara l'obiettivo individuare una figura che sia espressione del capo dell'amministrazione, considerato che a questo punto del suo mandato, manca meno di un anno alla scadenza naturale, servono a spiegato figure capaci di pigiare il piede sull'acceleratore in alcuni settori. Il problema, per Limardo, sarà quello dei numeri in consiglio con città futura che al massimo le darà un appoggio esterno. Il primo cittadino dovrà condurre in porto la nave in condizioni di assoluta difficoltà. Tra le pratiche da provare, prima di staccare la spina, ci sarà il piano di riequilibrio, o meglio, il nuovo piano di riequilibrio che dovrebbe consentire all'ente vibonese di risanare il disavanzo ridotto a 31 milioni circa dopo gli interventi da parte dello Stato. Una pratica delicata che in autunno potrebbe mettere a dura prova l'esistenza di una maggioranza che ad oggi sostanzialmente non c'è più. Bene, per il momento è tutto. Ci fermiamo qui. Grazie, come sempre, per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni del Tg dell'Altro Corriere TV. Il Tg dell'Altro Corriere TV Grazie a tutti.